no ragazzi ero ero siamo 3 a 0 adesso sono a 16 simon ero ero a 15 ero a 15 prima ero a 15 questo questa volta ti ho battuto tre volte sono a 16 simon cosa vuoi c'è minchia quanti punti mi sto dando sto dando i punti giusti si ma se giochi così simon do cazzo vai no gli dico così batti a fumare sigaretta fai qualcosa calmati un attimo non stai non sei in te al momento o allora sto attaccando tantissimo sto attaccando tantissimo quindi non mi puoi dire niente ti sto arando male non lo scrivo sul gruppo a quanto siamo voglio vantarmi un po no mamma come ti sto purgando ma io non volevo fare quello giustizio di merda questa anche mi salvo